tecniche esoteriche per raggiungere la felicità e gli obiettivi. Prima però iscriviti a tutti i miei canali YouTube, canali YouTube Massimo Taramasco, crescita personale con Massimo Taramasco, felicità, benessere, molto stima, e anche adesso ovviamente a questo nuovo canale Esoterismo e spiritualità con Massimo Taramasco. Allora, e veniamo un po' a cercare di capire le tecniche esoteriche. Allora, se ti senti come se la vita fosse un passaggio, se non ti senti in grado di viverla nel modo giusto, è venuto il momento di fare un percorso esoterico per riappropriarti della tua vera natura, per risvegliarti. Che cos'è il risveglio? È realizzare i propri sogni, realizzare le cose importanti per noi. Quando siamo nati, quando sei nata, quando sei nato, hai ricevuto una nuova opportunità di vivere, che dal mio punto di vista viene dopo tante reincarnazioni. Le reincarnazioni e anche questa vita sono fondamentalmente un sogno, sono fondamentalmente un sogno che però ha una funzione, una funzione reale, quella di trasformarci, quella di far sì che la nostra anima possa rendersi conto di essere la famosa goccia all'interno del mare e possa, diciamo, avvenire il miracolo per riacquisire il nostro potere, per stare bene. Dobbiamo, diciamo, liberarci del velo di maia, rendersi conto che la vita è un gioco, tutto sommato, che in qualche modo ci è stato imposto. Noi siamo, fin tanto che siamo intrappolati in essa, dobbiamo utilizzare, utilizzare il nostro corpo, utilizzare la nostra mente per poter trascendere, per poter andare oltre. E per fare questo tutte le scuole esoteriche propongono di diventare degli osservatori, iniziare a vedere la nostra vita dall'esterno. E guardandola dall'esterno inizieremo a renderci conto che i problemi non sono così importanti come tu pensi che siano. Di fatto anche i problemi sono illusione della mente. E allora, imparando a guardarti dall'esterno, inizierai a comprendere cosa sta succedendo, perché ti sta capitando quello che ti sta capitando, e riuscirai a capire quali sono i veri motivi delle azioni dietro le persone. Persone che spesso sono guidate da veleni mentali, persone che spesso sono guidate da paranoie, diciamo così. Quando riuscirai a comprendere che anche tu, probabilmente talvolta ti muovi da questo punto di vista, inizierai il percorso di risveglio, il percorso spirituale di risveglio. E come dire, un po' come imparerai a renderti conto che stai sognando, come quando noi sogniamo sapendo di sognare. Ecco, vivremo sapendo che cos'è la vita. Noi tutti noi siamo, tra virgolette, figli dell'universo, siamo la goccia dentro l'universo. E la vita, diciamo, è parte dell'universo. Devi soltanto integrarti, integrarti con il tutto, perché anche, diciamo, personaggi, se vogliamo, che non sono favorevoli allo sviluppo spirituale degli esseri senzienti, poi vedremo nel corso dei video, tendono ad opporsi a questo, tendono a far sì che l'uomo o gli esseri in generale restano, possano restare all'oscuro di tutto. E quindi invece noi dobbiamo imparare a ricordare, a ricordare che siamo qui non tanto per essere schiavi di qualcun altro assolutamente, ma per co-creare con l'universo. Quindi per avere successo bisogna smettere di seguire le orme degli altri, creare nuovi standard, infrangere gli stereotipi e offrire finalmente al mondo qualcosa di nuovo, creare qualcosa di nuovo. Perché ci sono, ripeto, delle egregore, delle forme pensiero negative. I pensieri sono qualcosa che si manifesta, diciamo, bloccando le persone, bloccando le situazioni. Quindi è molto importante, per stabilire nuove regole, lasciare andare le vecchie. E questo puoi farlo soltanto tu. Soltanto tu se non sarai bloccata, se non sarai bloccato, negli stereotipi, nei giudizi, nelle varie paure che possono attanagliare la tua mente. Devi imparare a stabilire nuovi standard di comportamento. E vedrai che inizierai a migliorarti. Il mondo diventerà, anzi il mondo diventa sempre ciò che tu pensi del mondo. Possiamo dire che è uno specchio gigante che riflette l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti dell'universo e nella vita. Quando dentro di te interiormente vivi un senso di tristezza, il tuo mondo diventerà triste. Quando vivi un senso di felicità, il tuo mondo diventerà felice. Quindi tu hai il potere, il potere magico, il potere esoterico, il potere di Maya, il potere della trasformazione. Non lasciarti etichettare delle persone. Se una persona ti dice, certo che tu sei una persona triste, e tu ti lasci etichettare, diventerai triste, perché noi tendiamo a diventare quello che gli altri, in un modo o nell'altro, ci vogliono imporre. E allora dobbiamo imparare invece a guardare oltre, dobbiamo imparare ad andare oltre. E non lasciarci etichettare da nessuno. Perché tieni presente questo, anche che ogni azione che faremo, ogni cosa che faremo, proprio, andremo a vedere, diventerà un boomerang. quando, se odi, quest'odi in qualche modo ti ritornerà. Perché lo specchio, l'universo, che è una sorta di specchio gigantesco, tenderà a materializzare ciò che tu pensi, tenderà a materializzare le azioni che tu farai. Ecco, questo è quello che bisogna veramente imparare, usare la mente, usare la nostra anima e usare noi stessi per ottenere le cose. Ricorda una cosa, tu stesso colori il tuo mondo e colori il mondo con il tuo atteggiamento. Questo è un grande segreto perché ci permette di, un grande segreto esoterico, ci permette di trasformare, di cambiare e di vivere finalmente energia pulita. Questo è veramente importante, veramente fondamentale. Molte persone vivono una vita fatta di obiettivi non realizzati, compiti non svolti, fallimenti, più o meno, come dire, voluti. quindi tutto ciò accade perché non sai gestire le tue tensioni, non sai gestire le tue emozioni, non sai gestire i tuoi pensieri. Quindi devi imparare a credere al 100%, mettere energia e trasformare te stesso. Agire, continuare ad agire. Se una cosa non va, tira fuori un piano di riserva. sopporta anche talvolta il fallimento e vivilo come un insegnamento. Tieni presente che noi siamo spesso aggrovigliati in egregore che continueranno a cercare di tirarci a fondo, egregore fatte di paura, fatte di sensi di colpa. Non devi giustificare a nessuno le tue azioni. Tu sei un creatore del tuo mondo e le tue azioni non sono affare di altri. Quindi fottitene altamente di quello che gli altri pensano. E utilizza l'intenzione, utilizza la fiducia, devi avere fiducia in te stessa, in te stesso. Questa è la cosa fondamentale, perché la mancanza di fiducia in noi stessi crea veramente un circolo nefasto e vizioso. Bene, bene, bene. Per questo video è tutto, condividilo con i tuoi amici, mi raccomando, iscriviti a questo nuovo canale, perché secondo me sarà un bel canale, ma iscriviti anche a tutti gli altri miei canali YouTube attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e su TikTok. Ciao a tutti. E ti ricordo che su ogni canale YouTube ti puoi abbonare, abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati vicino a tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Sul canale Massimo Tramasco ci sono quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni in seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Sul canale crescita personale potrai partecipare ad apposite live domande e risposte, sul canale felicità e benessere potrai partecipare a tre vari abbonamenti, anche il seminario online. Ciao a tutti!